e ciao a tutti io sono mattia dei gamer official e oggi siamo qui di nuovo su animal crossing new horizon per la seconda parte del lo scorso video quindi eravamo rimasti qui che adesso scendiamo e andiamo qui ecco vedi nello scorso video lì ho detto eh lì ci sono le carote e qua ci sono il grano qua ho fatto tipo non lo so cioè e c'è una zona fossili si è carina devo dire poi di qua abbiamo un razzo e questo è lo sperimento dell'ultimo video la trappola che adesso attivo perché la devo rifare qua c'è dei badi di caso non so perché io ho messi però vabbè per di qua abbiamo un'altra spiaggetta con cioè le cose da spiaggia e ombrelloni no e poi qui abbiamo l'altro mio account secondario che l'uso per raccogliere straline e cose e le ho lasciato un po di fai da te poi scorrendo questa strada possiamo andare per di qui che qui c'è la casetta dell'account di mio fratello e poi c'è il ponte ok per di qui c'è un orticello con una rosa nera una a 5 stelle e questa allora poi qua c'è una passerella e il mare basta poi segniamo tutto per di qui a questo video durerà solo tre minuti perché lì l'ho già fatta vedere tutta e quindi praticamente solo due cosette proprio per così quindi non aspettatevi quattro minuti c'è poi guarda un pallino e c'è il pubazzo di neve e qua c'è una zona con una campana e basta è vero che non vi ho fatto vedere questa zona mi sa che non ve l'ho fatta vedere praticamente qua c'è un'area setting in core di blu che qua registra non lo so non si mette a fuoco prima non si metteva a fuoco aspettate che non vi spugno vabbè non so parlare e qua c'è un bel po' di giallo allora andiamo per di qui e qua c'è un saltino che è per andare per di qua poi per di qua vediamo l'area a campeggio qua c'è una farm di pesche e robe varie qua c'è un area a campeggio con un sacco a pelo si un campeggio piccolino qua ti metti e ti racconti tutta la storia horror perché ho fatto vabbè e qua c'è un piccolo campeggio ecco le leggine ah se vi chiedete perché ho la neve l'isola a luglio perché io sono e allora si sentite il rumore perché c'è un trattore non so perché scusatemi scusatemi allora praticamente all'inizio del gioco ti chiedono tu vivi in Europa o all'altro mondo ecco io ho scelto non l'Europa e quindi mi sono beccato la neve oppure se qua ci abbiamo 30 gradi all'ombra qua ci abbiamo un freddo gelo e non è che mi dispiace la cosa perché in questi due anni ci ho anche convissuto su Animal Crossing però diciamo che non è piacevole poi andando per di qua questa è una nuova area ma abbiamo un parchetto così per sfizio no così buttato a caso lì boh e basta questa è la mia isola e chiudo qua il video c'è qualche zona che non vi ho fatto vedere e no non c'è una zona che non vi ho fatto vedere quindi per questo video è tutto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e e attivate la campanella e da Mattia DeGamer madonna da Mattia DeGamer è tutto e ciao